Di fronte ad una sorprendente Atalanta, la Juventus è tornata alle prestazioni migliori. Gli scatenati aerobici vanno in vantaggio con questo gol di Nova. Ubriacante a fondo del funambolico, Sivori è apparso in gran forma, ma alla fine i difensori nerazzurri riescono ad avere la meglio e liberano. Pronta la risposta di Longoni, Vavasori para. Preme in vano la Juventus e gli atalantini fanno buona guardia e Cometti non ha alcuna difficoltà a neutralizzare un lungo spiovente. Raddoppia l'Atalanta, Longoni correggio di testa un cross e sorprende nettamente in contropiede Vavasori. Con questo rigore di Sivori la Juve accorcia le distanze. Nella ripresa i bianconeri impongono il loro classico gioco. L'Atalanta cede le redini dell'incontro ai torinesi che ora dominano il campo. Sivori con una prodezza personale porta il risultato in parità. Atalanta 2, Juventus 2. Al prestigioso asso sudamericano l'affettuoso tributo dei compagni di squadra. Splendido doppio intervento di Vavasori che respinge due tiri consecutivi degli avanti aerobici. Boniperti lancia di precisione Stachini che di testa impegna il bravo Cometti. In conclusione una bella partita. La Juventus sta ritrovando il ritmo dei campioni. La Juventus sta ritrovando il ritmo dei compagni di squadra.